come giudica le prime due settimane del giro d'italia due settimane interessanti nelle quali vi è stato spesso un cambio di maglia rosa e quindi chiaramente ha destato un grande interesse in tutti gli sportivi. Adesso la maglia rosa è finita sulle spalle di Egan Bernal, ne sono contentissimo, Egan Bernal è un mio pupillo, l'ho lanciato tra i professionisti quando aveva solo 19 anni e la prima corsa che fece in Europa fu il tour de mediterranée in Francia con l'ultima tappa bordighera con un circuito durissimo perché si partiva ovviamente dal mare e poi si entrava nell'entroterra e lui arrivò nei top ten e io ricordo che allora è attenzione un ragazzino di 19 anni che entra nei top ten in una corsa peraltro qualificata con corridori quotati come tanti francesi perché c'erano tutte le migliori squadre francesi e io dissi allora segnatevi questo nome Egan Bernal perché salirà sul podio di un grande tour. Mi ha fatto molto piacere due anni fa sono stato alla vigilia dell'ultima tappa a Parigi e un giornalista che incontrai proprio che stava intervistando Egan Bernal mi disse avevi ragione io mi ricordo che la prima corsa che fece lo pronosticasti come un protagonista ad alto livello. Per l'ultima settimana del giro che obiettivi siete previstati e con chi? Allora l'obiettivo nostro sin dall'inizio del giro era entrare nelle fughe per cercare di vincere una tappa ci abbiamo provato riprovato abbiamo attualmente peraltro a conferma di questi nostri attacchi continui abbiamo lo svizzero Simon Pellò primo nella speciale classifica dei chilometri in fuga e noi speriamo di poter salire sul podio finale del Giro d'Italia a Milano proprio con il vincitore dei chilometri in fuga. Tante fughe nelle quali noi siamo entrati abbiamo cercato poi nel finale i nostri corridori hanno poi ceduto rispetto a quelli che sono andati ad aggiudicarsi la tappa. Abbiamo ottenuto un top ten con Simone Ravanelli purtroppo due ragazzi dai quali ci attendevamo molto sono due giovani di talento interessanti che non sono riusciti ad esprimersi perché all'ex giro del Trentino che ora si chiama Tour of the Alps Jefferson Cepeda il nostro ecuadoregno è arrivato quarto nella classifica generale primo nella classifica dei giovani si è distinto bene anche l'eritreo Nadnael Test Fashion sono certo che qui al Giro sono stati molto condizionati da queste giornate da tregenda che abbiamo trovato ora sudamericano e africano abituati al calore della loro terra è chiaro che in giornate gelide fredde vento pioggia sono rimasti assolutamente condizionati mi si potrebbe obiettare anche Egan Bernal è sudamericano e io rispondo di Egan Bernal ne nasce uno ogni vent'anni. Landroni una delle squadre più longeve ha sempre puntato sui giovani tra questi anche Bernal sì noi negli ultimi anni abbiamo lanciato vari corridori giovani talenti che poi hanno vinto con noi hanno continuato ad imporsi nelle grandi squadre del World Tour dove sono successivamente passati non solo sudamericani come Ivan Sosa e Egan Bernal ovviamente il migliore tra tutti ma anche italiani Davide Ballerini Andrea Vendrame vincitore proprio al Giro un particolare quel giorno della vittoria di Andrea Vendrame e la maglia rosa di Egan Bernal noi praticamente fu un giorno particolare per la nostra squadra perché noi avevamo lanciato tra i professionisti entrambi i corridori il vincitore di tappa e la maglia rosa poi altri corridori che abbiamo lanciato Fausto Masnada che con noi vinse due anni fa la tappa di San Giovanni Rotondo Mattia Cattaneo quindi tutta una serie di giovani che abbiamo scoperto lanciato tra i professionisti e che ora si stanno fermando nelle grandi squadre. Ci anticipa qualcosa per il proseguimento della stagione? Sarà un proseguimento della stagione improntato nuovamente ad un'attività internazionale noi corriamo un po' in tutto il mondo e adesso siamo un po' condizionati dal fatto che diverse corse sono state annullate proprio per causa del Covid. Covid. Comunque correremo nuovamente in Francia, saremo in Slovenia, probabilmente, dico probabilmente in Cina al Tour of King's Lake, una corsa che noi abbiamo vinto nel 2007 e però bisognerà vedere se sempre causa coronavirus verrà disputata. A proposito di giovani, ci sono sempre meno campioni, soprattutto nelle regioni del Sud Italia dove si stenta ad esprimersi, probabilmente per la mancanza di gare di un certo livello. La sua ricetta per combattere questa situazione? Sono le risorse economiche, perché la ricetta è rappresentata dalle risorse economiche sia a livello giovanile e quindi per poter impostare dei programmi proprio per i giovani e però avere le strutture necessarie e poi procedendo nelle categorie dilettantistiche, soprattutto gli under 23, è comunque il problema economico è un problema che investe poi nella nostra stessa attività e cioè a livello professionistico. Per i giovani chiaramente è auspicabile il fatto che vengano incrementate le attività perché solo incrementando le attività si possono portare altri giovani a praticare il ciclismo. Sappiamo che il calcio, io peraltro amo il calcio, vengo dal calcio, ho giocato al calcio però il ciclismo era uno sport di famiglia da parte di Giovanni Galli, mio nonno materno e però il calcio ha un po' fagocitato tutto, quindi speriamo che nel sud possano nascere delle realtà che si dedichino veramente ai vivai giovanili e che quindi da quei vivai possano nascere nuovamente i Vincenzo Nibali per fare un esempio, peraltro qui al Giro d'Italia oggi protagonista anche di una buona corsa il corridore che io stimo e apprezzo molto, che quest'anno è stato particolarmente sfortunato perché ha iniziato il Giro ma con una preparazione necessariamente affrettata. Quindi per attendere i nuovi Vincenzo Nibali sono necessarie nuove strutture che possono consentire a tanti ragazzi di praticare il ciclismo a un certo livello. Ringraziamo Gianni Savio dell'Androni Giocattoli Sidermech per questa intervista Antonio Abruzzese per Liberi TV Ringraziamo Gianni Savio dell'Androni Giocattoli Sidermech per questa intervista Ringraziamo Gianni Savio dell'Androni Giocattoli Sidermech per questa intervista Ringraziamo Gianni Savio dell'Androni Giocattoli Sidermech per questa intervista Grazie.